Ciao a tutti ragazzuoli, buona vista al vostro Ettorello della Pegna, Valbora e Spindosa di Santiago, con Bosa e Spagnolo. Uefu tutti ragazzi, allegria! Io vedo tutti voi, vi vedete il calcio sportivo bello del mondo! Eccoci con oggi, i pronostici di nuovo con mia zia dei anticipi del venerdì di Serie A. Pronti? La prima è Cagliari-Empoli, in cui dico 1-2-1 per il Cagliari. Tu che dici? Noi dico 1 fisso. Anche tu? E qua finisci? La vittoria 2-1 per l'Empoli. No, come? Uno si chiama Cagliari? No, 2-1 per l'Empoli. Quindi 2 fisso. Cagliari-Empoli? No, hai gol adesso a dire. Ma sì, ma chi vince? Il Cagliari-Empoli? L'Empoli, l'Empoli. E andatevi di 2, Cagliari-Empoli 2. 2. 1-2. 2. 1-2. 1-2. 1-2. Ah, no, hai sbagliato, vabbè, sei confuso, sei confusa. L'azione ha detto al contrario, però voleva dire che vince l'Empoli. L'immobilizzazione. Eh, sta comicone, sta buffone, non c'è altro. E poi abbiamo Verona-Torino in cui dico 2-0-2 Torino. Come invece che dici? Idem. Idem, Idem. Ah, dici, Idem con vadà. D'accordo, ragazzi. Questi sono i nostri pronostici. Quali sono i vostri? Iscrivetevi nei commenti. Qua sotto a presto e buona rima con la rima. Vinciamo la prossima schedina. Buona la rima.